Ferdinando Branciforti, cancelliere del Tribunale di Vicenza, ormai in live motivi del Tribunale di Bassano ha passato veramente tanti tanti guai, tante manipolazioni politiche, però sta di fatto che voi cercherete di far restare qua il Tribunale come è giusto che sia a Bassano, ma soprattutto ci vanno anche persone che sanno esattamente dove andare a muovere i bottoni. Il problema del Tribunale è un problema ormai annoso per quello che riguarda il Comune di Bassano, per tutto quello che riguarda anche altre organismi e altre istituzioni, Bassano possiamo considerare una città saccheggiata dalla motorizzazione all'Agenzia delle Entrate, siamo stati declassati. Il nostro baluardo era ed è ancora il Tribunale che per fortuna ha ottenuto questa proroga provvisoria di 5 anni e sulla quale noi lavoreremo pesantemente per far sì che possa restare, venga riconfermato e ritornare per tutte quelle che sono le attività e le necessità che ha la cittadina. Possiamo dire che è una città senza servizi come una casa senza una cucina? Fondamentalmente sì, lo dobbiamo vedere aspetto molto più ampio, ai 360 gradi, a tutte le attività che sono direttamente e indirettamente collegate all'esistenza e alla permanenza del Tribunale di Bassano, oltre a tutte le categorie che dobbiamo considerare più sfortunate o quantomeno meno privilegiate che si stanno facendo carico di viaggi e di difficoltà per il raggiungimento e anche per lo smaltimento delle pratiche che sono quotidiane ormai. La vostra voglia di vincere queste elezioni partirà proprio dei servizi? I servizi per una cittadina sono fondamentali, Bassano è stata saccheggiata di tutte quelle attività, il declassamento dell'Ene, delle poste, dell'agenzia delle entrate, della motorizzazione, non vorremmo che Bassano con la definitiva chiusura del Tribunale diventi poi un borgo invece che una cittadina che merita sicuramente una identità e una visibilità diversa.